Ciao a tutti, in questo nuovo video andremo a vedere come si entra in modalità Monk Mod. Non è una modalità conosciuta in Italia, per lo più conosciuta in America, Inghilterra, Australia. Ho preparato una presentazione. Modalità Monk Mod, modalità Monaco, opera al 100% delle tue capacità. Prima di iniziare con il video voglio ricordare, lasciate like al video perché mi aiutate davvero tanto, supportate il mio lavoro e aiutate a far crescere il canale, a raggiungere sempre più imprenditori che vogliono aumentare le loro performance. Se volete lasciate anche un commento o quando vi vedete il video a un vostro amico imprenditore, coach o consulente. Ora, che cos'è la modalità Monk Mod, opera al 100% delle tue capacità? Modalità Monaco. La modalità Monaco è una modalità in cui andiamo a operare al 100% per focalizzare la nostra attenzione verso il nostro obiettivo, focalizzare la nostra attenzione sulle nostre tasche giornaliere, sulle nostre azioni quotidiane che dobbiamo fare. Al giorno d'oggi, nel 2022, è molto difficile entrare in uno stato assoluto di concentrazione, dovuto alle molteplici distrazioni che abbiamo. Io personalmente, all'inizio del mio percorso, quando mi mettevo a lavorare, avevo il cellulare acceso, le notifiche che arrivavano, mi chiamavano di là, rumori, quant'altro. Ogni cosa, c'era sempre qualcosa che andava a influenzare negativamente il mio lavoro e questo andava drasticamente a farmi performare meglio, ad avere performance peggiori e portare poi dopo dei risultati mediocre per la mia attività. Quindi ho dovuto capire, trovare un sistema per dover operare al 100% e stare attento, concentrato per le mie tasche giornaliere. In tempi di pandemia sono entrato in questa modalità, modalità monaco, inconsciamente, non sapendo effettivamente, non avendola studiata, anche da giovane, anche se non è che sono vecchio adesso, ho 25 anni. Entravo spesso in modalità monaco quando volevo raggiungere un determinato obiettivo. In pandemia eravamo chiusi in casa e avevo iniziato la mia attività di coaching, facevo i miei primi contenuti su Instagram e YouTube e avevo solo un obiettivo, avevo l'obiettivo di crescere, nel senso crescere organicamente su YouTube e Instagram. Non avevo l'obiettivo monetario, nel senso tot fatturato, ma era solo l'iniziale. Ero all'inizio e non pretendevo di trovarmi subito i clienti. Ho operato ogni giorno verso il mio obiettivo, ogni giorno sapevo le azioni che dovevo fare, la creazione dei contenuti, scelta dell'argomento, strutturare video, fase di editing. Ogni giorno dovevo sfornare un contenuto, ogni giorno dovevo sfornare quel qualcosa che mi avrebbe portato ad avere più visibilità, ok? E mi avrebbe fatto avvicinare al mio obiettivo, cioè far crescere la mia pagina Instagram, far crescere il mio canale YouTube. Ogni giorno facevo determinate azioni, attraverso anche, grazie alla mia ragazza che mi ha aiutato molto nella fase di editing, non mi piace editare, la mia ragazza si occupava della fase di editing. Sono riuscito a costruire un buon pubblico, ero arrivato sui 4.000, partendo da 0-4.000 follower su Instagram e su YouTube, all'incirca su 5.000, avendo un video da 200.000 views, che adesso attualmente ho tolto, un altro da 20.000. Appena partito, in piena pandemia, ho iniziato ad avere autorevolezza, a farmi conoscere dal pubblico in un mercato che è molto competitivo, in cui ci sono davvero tante persone che fanno video, ok? Banali, ma solo di intrattenimento comunque. I miei sono video informativi, nel senso do valore, do sempre dei consigli utili che le persone possano applicare fin da subito e faccio ragionare le persone affinché possano migliorare la loro vita professionale e personale. E quindi sono riuscito a raggiungere il mio obiettivo di far crescere la mia pagina YouTube e Instagram. Ho ottenuto il mio primo cliente, senza che sono andato a cercarlo, perché non volevo cercarlo. Infatti quando mi ha scritto delle marche, l'ho seguito, perché ho accettato la sfida. Ero a disagio, non sapevo se sarei riuscito a fargli ottenere il risultato che lui sperava, voleva perdere peso. Ma ho accettato la sfida e l'ho vinta, e l'ho vinta. Quindi sono contento, e adesso stiamo andando avanti insieme ai ragazzi del mio team, nello spingere e portare questa filosofia, questo percorso di coaching agli imprenditori digitali, titolari di agenzie e coach consulenti per aiutare a scalare le loro attività. Andiamo avanti. Monk Mode. Completo isolamento per eliminare ogni tipo di distrazione che può influenzare negativamente la tua attenzione. Quindi isolamento può essere isolamento completo, o comunque parziale. Adesso dopo andiamo a approfondire che tipi di isolamento, comunque come possiamo entrare in modalità Monaco, per raggiungere il nostro obiettivo più velocemente, focalizzarci e operare al 100%. La modalità Monaco ha lo scopo di prendere la propria attenzione, che normalmente è focalizzata verso l'esterno, perché noi non riusciamo mai a focalizzare la nostra attenzione all'interno, a fare davvero una cosa e concentrarci in maniera assoluta. E dirigerla verso l'interno, nel tentativo di sviluppare alti livelli di chiarezza mentale. Alti livelli di chiarezza mentale, questa cosa qua, è una cosa che il 99,9% degli imprenditori non conosce. Proprio non conosce, non sa che cosa sia, non sa che sensazione. Ho provato, provo ogni giorno, livelli di chiarezza mentale alta, in mattinata, finita il mio rituale, che vado sempre, mi sveglio presto, mi sveglio, mi sveglio, meditazione, allenamento, sauna, doccia fredda. Quando rientro a casa ho una chiarezza mentale che pagherei oro per farla provare a quell'imprenditore che non ha mai provato questa chiarezza mentale. Avere questa chiarezza mentale ti aiuta a essere produttivo, ti aiuta a concentrarti, ti aiuta a prendere decisioni migliori perché non hai confusione in testa. Andiamo avanti. Monk Mode. Benefici. Più produttività, più chiarezza mentale, più concentrazione, più energia. Questi sono i benefici che hanno anche i miei clienti ad alte prestazioni che entrano nel mio programma di performance coaching e alcuni imprenditori entrano in modalità Monk Mode perché gli piace entrare, gli piace isolarsi. Dipende, ci sono quei tipi di persone che non vogliono isolarsi, quindi il performance coaching, il mio percorso è strutturato che andiamo in base alla persona a capire il sistema perfetto per farla operare al 100%. Quindi non tutti riescono a entrare in Monk Mode, ok? Non tutti lo vogliono, ok? Personalmente a me piace, mi piace stare da solo, mi piace... mi piace... e anche alcuni clienti ad alte prestazioni preferiscono isolarsi al 100% per determinati periodi dell'anno. Questi sono i principali benefici che tutti gli imprenditori ad alte prestazioni devono andare a ricercare tutti i giorni, ok? Se dobbiamo essere imprenditori ad alte prestazioni dobbiamo ricercare questi benefici tutti i giorni. Aiuteranno a migliorare le nostre performance lavorative e i risultati che portiamo ogni giorno saranno sempre più grandi. Ci sono tre tipi di modalità di Monaco. Isolamento completo, come ho detto prima. In questa modalità ti ritiri dalla società e diventi un recluso virtuale. Questo è quasi impossibile da fare senza vivere nei bastoni o in un monastero di qualche tipo. Se stai leggendo questo, la sensazione è che tu non voglia diventare un monaco piuttosto che desideri solo benefici che uno stile di vita monastico comporta. E in effetti davvero ho... penso una persona... conosciuto che effettivamente potrebbe entrare in un isolamento completo ma comunque io vivo a Milano e non potrei entrare in un isolamento completo. Non è possibile, ok? Devi andare, devi viaggiare, devi andare fuori. Isolarti completamente dal mondo. Poi abbiamo il parziale. Questo comporta periodi di quasi completamento vicino isolamento da attività che provocano enormi quantità di stimoli o che non portano avanti la vita. Io personalmente pratico su un 60... attualmente 60... 50% in modalità monk mode, ok? Esco poco, zero distrazioni, non faccio tanta conoscenza, ok? 50-70% durante l'anno e poi il restante mi svago di più, esco di più, cerco di uscire di più, ok? E questa è stata una cosa che mi ha fatto presente mia nonna, che non esco mai, che parlo poco, anche la mia ragazza. Faccio poche serate, preferisco stare chiuso a casa, fare un'attività di relax. E quest'anno, 2022, voglio allungare il mio periodo di monk mode, voglio fare un 70-80%, spingere, ok? Poi dopo vediamo che risultati riesco ad apportare da qui a 2-3 mesi, in base ai risultati poi andrò a programmare, ok, il tiro. E poi l'ultima parte è a selettivo, questo è qualcuno che si impegna selettivamente con vari oggetti e convenzioni nel mondo e sceglie di rinunciarvi completamente a praticare astuzia in relazione di essi. Che può essere l'eliminazione di alcol, l'eliminazione dell'utilizzo dei social. Ci sono persone che hanno scelto di non bere alcol, hanno scelto di non assumere droghe, hanno scelto di non masturbazione, di non sesso, dipende dal tipo di persona. Io personalmente non mi sono privato, mi privo in certi momenti, in periodi dell'anno, completamente di zero alcol, non sono mai stato uno che fa uso di droghe, sesso sì, tutto l'anno, e altre cose adesso non mi vengono in mente, perché comunque ho una ragazza. La maggior parte delle persone troverà che le parti di selettiva ritmica o impegnata sono più di loro gradimento. Allora, la maggior parte delle persone troverà le parti, la maggior parte delle persone preferiscono selettivo e parziale, ok? Preferiscono entrare in queste modalità, quindi scegliere, essere attivo, scegliere delle cose da completamente eliminare e parziale, comporta periodi di quasi o completamento vicino all'isolamento, che può essere anche tranquillamente un 70% dell'anno essere in isolamento, un 30% dell'anno essere in isolamento, perché si vuole spingere di più con la propria attività, dipende. Ci sono persone che entrano nel mio servizio di coaching perché vogliono spingere in un determinato periodo dell'anno, vogliono essere pressati, non vogliono andare, non ci deve essere nessun fattore negativo che vado a influenzare la loro performance, quindi scelgono di entrare nel performance coaching. Allora, quando si entra in questa modalità, no, utilizzo di social media, massimo 30 minuti al giorno su tutte le piattaforme, ok, massimo, potete guardare l'iPhone, si può vedere l'utilizzo dello schermo, cioè è proprio l'app, navigazione in internet senza scopo, quindi se non state, se non c'è uno scopo preciso di informazione utile, non si naviga a cazzeggio, quindi no, cibo a spazzature, cibi a calorie vuote, zuccheri dolci, cibi salate, non esistono, alcool, droghe o altri intossicanti, non esistono, controllo intermittente degli smartphone, infila quando si annoia, molto spesso le persone quando si annoiano, stanno aspettando qualcosa, controllano il cellulare, ogni 30 secondi. Lo facevo anch'io, le so queste cose qua, per questo che, poi dopo le insegno, perché sono andato a risolvere, e sono cose che studio, e il mio team andiamo ad aiutare le persone a risolvere queste cose qua, per operare al 100% e ad avere il controllo. Controllano il cellulare anche se non c'è niente, quindi questa è una perdita di tempo, stai passando più tempo sullo schermo, i tuoi occhi non ne traggono vantaggio. Conversazione inutile, per il gusto della conversazione, questo è parlare con persone che non danno valore, cioè parlare tanto per parlare, non è una cosa che faccio, se devo rompere una conversazione, perché è inutile, rompo la conversazione, non c'è bisogno di parlare con una persona perché bisogna parlare, non parlare, non perdere tempo, go, go, cosa bisogna fare? Meditazione, consapevolezza, almeno 30 minuti al giorno, quello che consiglio, perché 30 minuti al giorno di meditazione ci arrivano davvero gli ultra, 5 minuti, se siete dall'inizio, 5-10 minuti al giorno di meditazione, ok, provateci, non è facile però, provateci, leggere libri, almeno 30, un'ora al giorno, ottenere una buona forma fisica, miglioramento della salute, quello che è più importante è il vostro, è la vostra salute, dovete costruire un tempo della salute, non tanto la buona forma fisica che è una cosa indiretta, se avete una buona salute, state facendo bene le cose, indirettamente avete anche una buona forma fisica, ma dovete capire la differenza tra salute e forma fisica, farò un video a parte per questo, perché si può avere una buona forma fisica e non stare in salute, ok, quindi tranquillamente ci sono gente che ha un bel fisico, ma sta assumendo delle sostanze che non fa bene alla propria salute, quindi non sono persone di salute, ma farò un video specifico su questo, trascorrere profonde sessioni di lavori su progetti importanti, ok, molto importante, apprendimento basato sull'abilità volto ad aumentare la posizione nella vita, completare attività arretrate che sono state costantemente spinte al domani, quindi smettere di rimandare, prendere tutte quelle azioni che rimandiamo, rimandare, rimandare, prenderci una mattinata, un pomeriggio o un'intera giornata e fare tutte quelle azioni qua e comunque iniziare a smettere di rimandare quelle azioni e prendere sempre dei momenti nella giornata dove si può o delegare a una persona che faccia queste cose e queste scartoffie, quando c'è dolore mi dice il mio mentore, quando c'è dolore puoi iniziare a delegare nella tua attività. Investimenti, quello che consiglio indipendentemente dal livello che siete, se siete all'inizio o state già guadagnando delle buone cifre, la prima cosa che dovete fare è investire nella vostra salute, occhiella e luce blu sono state la prima cosa come potete vedere ho investito l'investimento di circa questi qua mi sembra 300 euro, il desk è regolabile, una scrivania, una bella scrivania, adesso andiamo a vedere con voi, ok, andiamo a vedere con voi, desk, primo, desk, come si chiama, regolabile, ok, ok, questo qua, ok, aspettate un attimo, 200, 280 euro, ok, il desk, qua ci sono i pulsanti per regolare l'altezza, ok, vi faccio vedere, qua, molto, molto figo, molto figo, per lavorare a seduti o in piedi, ok, qua, regolazione, display led, pulsanti su e giù, 4 impostate, molto bello, molto bello, questo è un investimento che farò appena, appena cambio casa, perché in questa casa qua non ci sta, adesso stiamo valutando io e la mia ragazza ci stiamo valutando, stiamo facendo delle offerte per la casa, ok, quindi speriamo in bene, e poi se va tutto bene ci trasferiremo anche fuori Italia entro 2022, poi pigiami flanella, pigiami flanella, migliori tessuto per migliorare la vostra qualità del sonno, io l'ho preso da, oh, non mi ricordo come si chiama, Milano, non è che, non esco tanto, quindi adesso magari vi sto dicendo una stronzata uniclo, può essere che è una cosa di abbigliamento, non lo so, massaggi, una volta a settimana, mio cliente ad alte prestazioni, imprenditori digitali, che eroga, che fa anche servizi fisici, nel senso che va a fare i massaggi, la parte della sua acquisizione clienti è online, ok, perché crea i contenuti acquisiti ai clienti, nella zona di Milano, e poi dopo va a fare il servizio a domicilio, Max, viene una volta a settimana a farmi dei massaggi, mi aiuta a tenere, abbassare i livelli di stress, tenere la mente concentrata, aiutare il mio corpo, perché comunque, quando ci alleniamo, poi dipende anche dal tipo di allenamento, se facciamo tipo allenamento spesi, spingiamo, 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 dobbiamo andare a fare dei massaggi, una volta, due volte a settimana, anche decontratturanti, per aiutare i nostri, il nostro corpo, i nostri muscoli, a fluire bene, i nostri fluidi, e poi abbiamo le cuffie insonorizzanti, mi sa che ho sbagliato a dire decontratturante, a volte parlo, parlo lento, a volte parlo veloce, quindi sembra che sto sbagliando le parole, però è che, certe parole non le uso, quindi sbaglio, quindi ragazzi, mi dispiace. Ora, qua non lo so, Microsoft Bing, cuffie insonorizzate, ok, allora, MediaWord, andiamo a MediaWord, ok, vi possono aiutare molto, questo è il miglior investimento, cuffie insonorizzate, non costa neanche tanto, ok, ci sta anche questo colore, vi può aiutare davvero tanto, ad aumentare la vostra concentrazione, e entrare in uno stato di concentrazione assoluto, 60 euro, ok, qua c'è scritto per gaming, vediamo altre, cuffie altoparlante, però queste proprio non sono, proprio insonorizzate, accetta, abbiamo sui 80, eh, non va, va bene, va bene, però comunque cuffie insonorizzate, vi possono servire all'investimento da fare, questi sono i piccoli investimenti che richiedo, ai miei clienti, comunque, voi che state leggendo, prendete spunto, distrazioni, le distrazioni, entriamo in modalità presentazione, presentazione, ok, annulla, ok, modalità presentazione, ragazzi, lo so, mi sento un po', che non sono tanto bravo a usare il computer, però, PowerPoint lo sto usando da poco, distrazioni abbiamo, notifiche, video suggeriti su YouTube, ordinare desktop, eliminare app che non si usano, nel cell, eh, allora, esempio, vabbè, il mio desktop è abbastanza pulito, possiamo fare, andiamo su visualizza, dove, che è, disponi, riordino oggetti, no, mi sa che non me lo fa fare, quando c'è la registrazione schermo, volevo farvi vedere come allineare bene, visualizzazione, disponi, visualizza, no, 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 non me lo fa fare quando sono nella modalità di registrazione, non sapevo, ci sono molti limiti quando faccio la registrazione schermo, quanto tempo stai su cellulare, dati, ok, possiamo andare a vedere, effettivamente possiamo lasciare all'inizio, subito vedere dall'app quanto tempo stiamo a cellulare, ok, ci aiuta a capire, effettivamente a prendere consapevolezza se stiamo esagerando o no, eliminare le app che non usiamo a cellulare, ok, io personalmente a volte scarico le app e non le uso mai, eliminiamo, è una cosa minimalismo, ok, cerchiamo di tenere meno cose, minimal, minimal, nel nostro schermo, ok, ordinare desktop, i video suggeriti su YouTube, stiamo attenti ai video suggeriti su YouTube, perché magari esce un video sul nostro, sul nostro YouTuber preferito, o un'informazione davvero di valore, ma stiamo facendo un lavoro focus su una determinata cosa, a parte che se stiamo facendo un lavoro focus, non dovremo neanche avere aperta la nostra pagina di YouTube, ok, quindi state attenti, le notifiche disabilitate, le notifiche sul cellulare, quello che ho fatto su Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, perché appena arrivano notifiche andate a vedere, c'è quel senso di gratificazione che ho spiegato nel primo video, eliminate, eliminate tutte le notifiche, prima delle 13 puoi mettere il cellulare in modalità aerea, quello che faccio io, quando mi sveglio è già in modalità aerea, perché io non dormo, dormo con il cellulare in modalità aereo, prima delle 13 non accendo il cellulare, lo lascio in modalità aereo, così vado in palestra, faccio le mie cose, faccio con azione, senza vedere notifiche che arrivano, senza vedere il numero 3, 3 messaggi su WhatsApp, 3 su notifiche di Facebook, perché ci creano già confusione in testa, e partiamo male la giornata, noi dobbiamo partire bene nella nostra giornata, essere limpidi, avere una bella chiarezza mentale, fare quello che dobbiamo fare, andare in palestra, fare attività, sauna, massaggi, preparare le nostre azioni giornaliere, per il nostro piano della battaglia, perché è come se scendiamo in campo, e le nostre performance, determineranno i risultati, che noi avremo a fine giornata, se vuoi far funzionare il tuo destino, esegui le azioni giuste, noi decidiamo, scegliamo che destino avere, se vogliamo essere persone povere, saremo persone povere, in base a quello che facciamo noi nella nostra vita, nei nostri giorni, se perdiamo tempo, facciamo cazzate, avremo quella vita lì, il nostro futuro, noi dobbiamo fare, se sappiamo già le cose che funzionano, perché i migliori atleti, come dico sempre, Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, sanno le cose che funzionano, sanno le cose per essere dei migliori, le fanno, ci sono tanti calciatori, sanno le cose che devono fare per essere dei migliori, ma non le fanno, non hanno quella dedizione, non hanno quella disciplina, e nel business, se sai che per apportare un cambiamento drastico, con la tua attività per farla esplodere, scalarla, essere quella stella, intorno a, quella stella che brilla intorno a delle stelle che sono spente, ok, se vuoi essere quella stella che si accende, che emana calore, devi differenziarti, devi fare quelle azioni che funzionano, per portarti a quel punto lì, ok, quindi stai bene che dovrai mangiare bene, essere disciplinato, creare, il tuo corpo deve essere tutto in piedi della salute, devi far sì che le tue performance lavorative, siano superiori a tutte quelle dei tuoi competitors, e migliorare di giorno in giorno anche del 0,01%, operare a 100% ogni giorno, così da assicurarti la vittoria, così da assicurarti la vittoria, sono quelle cose che funzionano, tu non puoi pretendere di, poi queste sono cose per persone che vogliono scalare, persone ambiziosi, non sono per tutte queste informazioni, non è che non funziona quello che ti sto dicendo, non è fantascienza, se pensi che è fantascienza sei sul canale sbagliato, ok, se vuoi scalare la tua attività, vuoi arrivare a dei grandi livelli, da qui a un anno, due anni, tre anni, quattro anni, questa è la tua filosofia, questa deve essere la tua filosofia, il tuo corpo deve essere un tempio della salute, ok, deve avere disciplina, devi prenderla come stile di vita, ok, perché questo farà la differenza tra te, e quella persona che ha la tua stessa formazione, ma non riesce ad avere i tuoi stessi risultati, ricordatelo bene, riguardati bene questo video qua, riguardati i miei video precedenti, ricordati di lasciare like, di commentare, condividere il video, e se sei un titolare di agenzia, coach, consulente, e vuoi lavorare con me e il mio team, per performare meglio, vuoi aumentare le tue prestazioni lavorative, perché vuoi far crescere la tua attività, vuoi scalare, vuoi crescere personalmente e professionalmente, prenota una chiamata gratuita con me, lascerò il link nei commenti, e se vediamo che possiamo aiutarti, ti offriremo il nostro percorso di coaching, ti faremo vedere cosa consiste, i prezzi, e niente, adesso il video è finito, lascerò anche i miei canali social, siccome sono attivo molto su Instagram, Facebook, mandatemi la richiesta di amicizia su Facebook, ciao a tutti, Instagram sono molto attivo, faccio vedere attraverso i miei stories, cosa faccio durante la giornata, poi sono anche attivo su LinkedIn, quindi seguitemi anche sui miei canali social, e niente, come ho detto, ricordatevi di lasciare like, perché mi aiutate tanto, al prossimo video.